Il nostro territorio si può valorizzare anche con il lupo italiano. Così Camillo Sborgia, consigliere provinciale originario di Cepagatti, introduce l'abruzzese Piero Accettella, addestratore e ricercatore del compartimento cinofilo, presentando il volume di Sergio Marchi, Piero Accettella, Cinofilia, filosofia di vita, il pastore italiano. Non è una polemica, ma qui voglio constatare una cosa. Purtroppo in Italia noi non portiamo avanti i nostri valori. Noi in Italia abbiamo 20 razze di cani di cui purtroppo nessuno conosce. Noi siamo un popolo che decantiamo le cose degli altri e appena c'è qualche specie in estinzione immediatamente ci prodighiamo per andarli a salvare. Quando noi in realtà abbiamo delle cose nostre di cui dovremmo essere un po' fieri. Ma ripeto, non voglio essere polemico, ma realistico e purtroppo la realtà è questa. Comunque dagli anni 90 c'è il pastore italiano recuperato in tutto il suo splendore e c'è anche un libro per raccontare. Sì, praticamente il libro racconta la storia di Piero Accettella che poi è la storia del pastore italiano, precisando una cosa che in realtà il pastore italiano è un cane nuovo di nome perché il nome è uscito appunto negli anni 90, in realtà è un cane secolare che si perde nella notte dei tempi. Grazie. 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 Grazie.